A fine gara siamo con il mister del Real del Siracusa, Elio Moncada. Allora mister, oggi una brutta gara se sei d'accordo, un brutto 0-0, gara di nervi, gara cattiva, il calcio è maschio però forse oggi un po' troppo. Era abbastanza nervosa direi, sapevamo che veniva il Messano, una squadra ultima in classifica ma non per condizione tecnica o fisica ma perché ha avuto all'inizio un pochettino meno buono. Siccome si è aperto da pochi giorni il mercato e ha fatto già degli acquisti sapevamo di trovare una squadra totalmente cambiata. ovviamente la gara non si poteva mai sviluppare come volevamo perché il Messano è venuto qui a Siracusa con l'intento di prendere un punticino e quindi aveva 10 uomini dietro la palla e sempre sotto la loro metà campo quindi una gara difficile di trovare spazi. L'abbia provato in tutti i modi ma veramente era un fortino pieno pieno di difendenti. Mister come dicevo la volta scorsa le partite si devono giocare, non sono i nomi. Abbiamo visto il rovescio della mataglia, avete giocato una bellissima partita a Modica la scorsa settimana, un bello 1-1 che addirittura potevate anche vincerla e oggi con l'ultima in classifica invece è stata difficile. Ma su questo devo dirti che siamo andati a Modica noi a giocarci la partita a vista aperto, diversamente da come ha fatto il Messana qui che è venuto solamente a difendersi. Quindi quando giochi a calcio e trovi dall'altra parte una squadra che anche essa gioca è la cosa più bella, che vinca il migliore. E lì è uscito un bel pareggio, potevamo anche fare bottino pieno ma ci andava bene così. Oggi purtroppo piange un po' il calcio giocato perché non ci hanno permesso di poter giocare perché era una squadra solamente venuta qua a difendersi, a fare falli e poi è stata per 90 minuti a terra, simulare falli continuamente. Quindi quando vedi queste scene cadono un po' le braccia a terra, dispiace. Però purtroppo il calcio è anche questo, loro si devono salvare e quindi hanno attuato questo tipo di atteggiamento che è poco bello, poco sportivo. Però l'hanno fatto, noi guardiamo casa nostra, ci prendiamo questo punto che è sempre positivo e pensiamo già alla prossima gara. Mister, il bicchiere è mezzo vuoto, mezzo pieno? Allora io lo considero sempre mezzo pieno perché sono ottimista per natura, il campo ci ha dato un punto, ce lo prendiamo e molte volte queste gare possono diventare addirittura totalmente negative. Però ripeto, noi ci abbiamo messo tutto l'impegno, abbiamo finito con forse con quattro attaccanti, più un trequartista, siamo stati tutto il tempo nella loro metà campo, ma quando vedi dieci giocatori schierati dentro l'area di rigore dico, si fa fatica a trovare spazi e perciò... Grazie che è barricata, scusi se ti interrompo. Assolutamente sì, una barricata, la loro partita era quella, hanno fatto quella, noi facciamo un altro tipo di calcio, però ci prendiamo il punto, muoviamo sempre la classifica, rimaniamo nei piani alti e ci concentriamo per domenica prossima a Mazzarrone. Mister, complimenti anche oggi nonostante il pareggio. Ma grazie sempre. A fine gara siamo con Riccardo Fontana, centrocampista del Real Siracusa 2005, quindi complimenti per l'età. Allora Riccardo, come diceva il tuo mister, non è stata una bella partita, un bel vedere. È stata una partita molto cattiva, molto fallosa, se sei d'accordo. Buonasera, grazie. Peccato per il risultato finale, anche peccato per, se me lo permette, della decisione dell'arbitro che è stata un po' sfavorevole nei nostri confronti. Però queste partite ci aiutano a capire, ci fanno rimboccare le maniche e dobbiamo essere subito pronti per la prossima partita e già in settimana inizieremo ad allenarci con la mentalità giusta per andare a fare il risultato nella prossima partita. Ecco, venivate da un bellissimo pareggio col Modica, con una squadra molto forte, una squadra che può vincere il campionato e poi invece oggi con l'ultima in classifica un brutto 0-0. Ecco, il calcio è anche questo. Eh sì, il calcio è anche questo. Ci siamo impegnati davvero tanto contro il Modica, eravamo davvero in forma. Ora un po' meno, forse. La partita è stata molto morta con molti tempi di gioco spezzettati. Abbiamo giocato poco, tempi di gioco spezzettati, però andiamo avanti e guardiamo già la prossima. Riccardo, un punticino che comunque muove lo stesso la classifica, meglio di 0 punti ovviamente. Il pareggio è sempre meglio della sconfitta ovviamente, però noi puntiamo sempre a vincere e a fare sempre di meglio. Vi dovete rifare naturalmente contro il Mazzarone, un'altra squadra forte, un'altra partita difficile, però a quanto abbiamo visto con il Modica tutto è possibile per questo Real. Andiamo a Mazzarone con un unico risultato, la vittoria, e cercheremo di portarcela a casa. Riccardo, complimenti per la prestazione e in bocca al lupo. Grazie.